Trapani, provincia di Trapani, per la precisione a Partanna, 30 parlamentari del Movimento 5 Stelle tra Senato e Camera sono venuti in queste zone, nella Sicilia occidentale, perché riteniamo importante conoscere i territori direttamente, un evento non da poco, stiamo parlando di 30 parlamentari che contemporaneamente vanno nelle piazze a incontrare i cittadini. Adesso guardiamo i giornali di Sicilia, il giornale di Sicilia è uno dei giornali più importanti, forse più importante, più famoso e diffuso in Sicilia, vediamo dov'è la notizia, perché sicuramente c'è una notizia del genere di questo livello, vediamo, vediamo, non c'è in prima, in seconda, non c'è in terza, in quarta però c'è il circolo del megafono di Crocetta, sicuramente, c'è importante, anonimo su diola, c'è dei governatori, muore schiacciato da un sasso, queste sono notizie dei vari paesi che ci sono, Renzi, Renzi non manca mai, in ogni giornale ci mancherebbe, il congresso di Epifani, Lorenzin, c'è un po' di tutto, guarda, 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 ma lo troveremo all'inizio o dopo, in qualche modo, prima o poi lo troveremo, Alcamo arriva il Vescovo, questa è una notizia importante, proposta dall'articolo del caricato, arriva il Vescovo, cioè non è che, c'è di tutto, guarda, ah, eccolo qua, pensavate che eravamo noi, no, il torneo di calcio balilla, quello, quello merita una mezza pagina, un articoletto, un foto, sana alimentazione spot, diciamo, c'è poco da dire, la notizia non c'è, non c'è, neanche un piccolo trafiletto che racconta quello che siamo venuti a fare, però, in compenso, una cosa dobbiamo dirla, c'è una grande, un grande spazio dedicato a questa notizia, il senatore da lì presenta un emendamento, sappiamo bene che gli emendamenti è solo una proposta, un emendamento per destinare 5 milioni di trasferimenti qua all'aeroporto di Trapano, notizia, che diciamo di 5 milioni? E di questa grande notizia, perché? Sì, Vito, qualcosa di incredibile, anche perché questi soldi, vedremo poi nel merito l'emendamento, saranno destinati ad Ayrges e non al comparto che ha subito realmente dei danni a causa della guerra in Libia qualche anno fa. Ma mi parlavi, se non sbaglio, di una decina di milioni di euro, che fine hanno fatto? La notizia di qualche giorno fa, di una mia richiesta del Movimento 5 Stelle al Ministro Franceschini, per capire dove sono andati a finire 10 milioni stanziati per l'aeroporto di Trapani-Birgi e il Ministro ha risposto non so, non so, ecco che qualcosa l'abbiamo detto ieri sera a Trapani, dove sono andati a finire questi 5 milioni? Ecco come d'incanto spuntano la notizia sul giornale. Altre cose, ieri siamo stati anche ad Alcamo, nemmeno un trafiletto è stato il vescovo, gli hanno fatto un intero articolo, mezza parte. Questo è il motivo per cui oggi noi diciamo no ai finanziamenti pubblici e all'editoria, diciamo no a questo giornalismo e a questi giornali. Grazie, arrivederci alle stelle.